Musica Uscirà dal carcere Dana Lauriola alla portavoce NoTav sarebbero stati concessi domiciliari e occupazione dei binari del TGV ieri sera in Val di Susa. Vediamo di quanto è accaduto a San Didoro in Val di Susa dopo un'altra serata di forti tensioni sul fronte della Tav. Il paese vive con apprezzione il clima che si è creato attorno al cantiere dove nascerà il nuovo autoporto. Federica Burbatti Si è preoccupati perché adesso due giorni fa è andata a fuoco una roulotte nel nostro territorio, c'era una bombola dentro ed è esplosa. Il vice sindaco di Bruzzolo parla di una piccola deflagrazione, una struttura andata completamente distrutta, esplosioni sospette che aumentano lo stato di tensione. Dalla notte di martedì quando il centro abitato di San Didero dove si trova il cantiere del futuro autoporto è rimasto coinvolto durante le tensioni tra NoTave e Polizia, Daniele Cibrario è un allevatore, ora teme per il suo bestiame e per il fieno. Una mia grande paura è che se ci dovessero essere delle manifestazioni qua vicino alle aziende potrebbe essere un problema per il fienile perché se dovesse prendere fuoco il danno per l'azienda sarebbe un danno enorme. Spero che finisca il prima possibile, che si trovi una quadra tra tutte e due le parti, che si possa tornare a una specie di normalità. Il prefetto di Torino ieri ha detto che le legittime manifestazioni non debbono essere sopraffatte dai disordini da parte dei violenti. Ezio Locatelli, segretario provinciale di Rifondazione Comunista, replica e dice che l'unico rischio di deriva violenta è quello innescato dall'occupazione militare delle aree di San Didero. La gente è preoccupata per il centro abitato, i fumogeni che sono arrivati l'altra sera sono arrivati nei cortili di persone, di case, tra cui due di queste case sono abitate da persone che hanno dei problemi di sanità. Intanto poco fa il Tribunale di Sorveglianza avrebbe concesso gli arresti domiciliari a Dana Lauriola, portavoce della Ladura del Movimento Notav, era in carcere dal settembre del 2020.